Ciao e benvenuto su Audiofilando, il canale dedicato a tutti gli amanti del vero ascolto. Io sono Maurizio, il mio scopo è quello del canale? Darti alcuni accorgimenti per godere al meglio della tua musica preferita. Passione audiofila. Eh sì, è una brutta bestia. Non importa quale sia il livello o le prestazioni del nostro impianto, a tutti noi, o quasi, prima o poi succede la stessa identica cosa. Nasce latente, come una sensazione lontana, però a poco a poco cresce e prima o poi diventa una esigenza imprescindibile. Sto parlando del desiderio di upgrade. C'è poco da fare, prima o poi siamo costretti a capitolare e a cambiare un componente del nostro impianto stereo. Oggi cercheremo di capire insieme quale direzione sia meglio prendere per canalizzare i nostri istinti audiofilocompulsivi per massimizzare il risultato e soprattutto limitare i danni. Perché in questo campo fare la cavolata è facilissimo. Eh sì, perché è molto facile farsi prendere in braccio dal desiderio, dalla frenesia di upgrade e cambiare componenti, a prescindere dal budget che ci investiamo, che alla fine non ci daranno il risultato desiderato o comunque non soddisferanno appieno quella che era il nostro desiderio iniziale. E visto che siamo in clima di euforia per l'upgrade, perché non aiutarci a fare un upgrade anche al nostro canale ad audiofilando? Quindi pollicione su e soprattutto condivisione dei nostri video sui social per aiutarci a crescere. Prendiamo in considerazione un sistema stereo classico ad elementi separati, composto da sorgente, amplificazione e diffusori. Ovviamente, a seconda del tipo di sorgente, potremo avere anche altri componenti accessori, come un pre-fono nel caso in cui utilizziamo un giradischi per ascoltare i nostri vinili, o un DAC se utilizziamo un PC per la nostra musica liquida. Il tutto, ovviamente, sarà collegato da cavi. Quando ho pensato a questo video, durante la sua genesi, ho riflettuto su quale fosse l'ordine migliore da dare agli upgrade. Parlo di ordine in funzione della loro importanza, del loro possibile risultato finale. Parto dal più importante o da quello che secondo me è assolutamente o quasi inutile? O, intendiamoci, quelle che esporrò in questo video sono impressioni personali, idee personali, frutto di quella che è la mia preparazione tecnica e di quella che è la mia esperienza personale in questo mondo. Non voglio assolutamente che le mie parole siano intese come una lezioncina da maestrino. Ognuno è libero di investire i propri soldi come crede. Dopo questa doverosa premessa, ho deciso di partire dall'elemento che ritengo più importante di tutti, quello che secondo me sicuramente non vi farà mai pentire di averlo fatto. E sapete che c'è? Non riguarda nessuno degli elementi di cui ho parlato prima. Sto parlando ovviamente dell'ambiente d'ascolto. Ovviamente per modo di dire, ovviamente per chi sa come io la pensi. Curare questo aspetto non potrà che essere il migliore upgrade che potrete fare al vostro impianto, a prescindere dal valore dell'impianto di cui stiamo parlando. Il costo? Beh, dipende. Vi lascio innanzitutto qui sopra un link al video in cui vi do alcuni suggerimenti per far rendere al meglio il vostro impianto, quello che già possedete, senza spendere un singolo euro. Tra questi accorgimenti, particolare interesse è rivolto appunto all'ambiente d'ascolto e in particolare al posizionamento dei diffusori e del punto d'ascolto stesso rispetto a loro. Il posizionamento è, secondo me, il primo aspetto da curare assolutamente quando si cerchi di far rendere al meglio il proprio setup, a prescindere dal setup. E curare questo elemento è a costo zero. O meglio, al costo di un sacrificio o di un compromesso all'interno del proprio ambiente d'ascolto. Chiaro che poi la cura del proprio ambiente d'ascolto può comportare degli interventi che proprio a costo zero non sono, anzi, possono essere molto onerosi. Due esempi molto importanti di upgrade dell'ambiente d'ascolto li ho, per fortuna, provati sulla mia pelle. Il primo upgrade, forse il più importante, è quello di essere potuto passare dal salotto a questa stanza. Una stanza dedicata all'ascolto musicale e, nel nostro caso, anche all'intrattenimento audio-video è il migliore upgrade che possiate mai fare. Ha, infatti, dei vantaggi innegabili. Nessun compromesso relativo al posizionamento, in quanto non deve condividere nessun'altra funzione della casa. Se la stanza è regolare come questa, si ha una perfetta simmetria e quindi questo comporta grandi benefici nella ricostruzione della scena stereofonica. La possibilità di scegliere ogni singolo componente in modo che sia destinato solo allo scopo ludico e alla qualità sonora. Caso particolare di questa stanza che è anche destinata alla registrazione dei video, quindi qualche compromesso in ogni caso c'è. Tendaggi spessi, rack dedicato, proprio destinato a supportare le elettroniche, arrivando fino al tappeto che è stato scelto delle dimensioni e dello spessore giusto a questo scopo. Il secondo upgrade, invece, è avvenuto quando già tutto l'impianto era in questa stanza. Sto parlando del trattamento acustico passivo a soffitto. Questo trattamento acustico ha avuto il preciso scopo di portare il livello di riverbero all'interno di questa stanza al valore ottimale per l'ascolto musicale in un volume di queste dimensioni. Vi lascio qui sopra un link al video in cui io e soprattutto Elena, che è l'architetto di casa, vi illustriamo il progetto del trattamento acustico che è stato realizzato in questa stanza. Non giriamoci troppo intorno. I due upgrade di cui vi ho appena parlato sono stati i migliori in assoluto che ho mai sperimentato durante gli anni che ho dedicato alla passione dell'ascolto musicale. Ripeto, ribadisco e sottoscrivo un concetto fondamentale. Per poter sperare di ottenere i risultati voluti, desiderati, da un qualsiasi upgrade della nostra catena stereo, bisogna sempre, sempre ricordarsi che questo setup deve essere collocato in un ambiente e vivere in simbiosi con esso. Quindi, se ne avete la possibilità, ovviamente, prendete in considerazione di soddisfare la vostra voglia di upgrade audiofilo con una modifica al vostro ambiente d'ascolto. Sia questa modifica legata al posizionamento all'interno della stanza, alla stanza in sé o al trattamento acustico all'interno di essa. Bene, se siamo quindi nelle condizioni di far suonare il nostro setup al meglio, vediamo qual'elemento della catena, quale componente in sesso stretto a questo punto, io ritenga più influente sulla resa finale. Ebbene sì, sto parlando dell'amplificazione. Durante i mesi scorsi ho avuto la fortuna, per carità, di provare più svariati incroci tra sorgente amplificazione e diffusori. L'impatto più evidente dal punto di vista qualitativo, emozionale, è sempre stato, quasi sempre, legato al cambiamento di amplificazione collegata ai nostri diffusori. Cerco di sviluppare meglio questo concetto e soprattutto, come si chiederanno forse molti, perché non abbia parlato in primo luogo di upgrade di diffusori. È chiaro, ovviamente, che passare da un diffusore da scaffale grosso così a una torre da pavimento da 100 kg porti a un risultato drammaticamente diverso. I diffusori, ovviamente, influiscono tantissimo sulla resa sonora, anzi possiamo dire che caratterizzano il suono di un setup. Ma qui, in questo video, oggi si sta parlando di upgrade, quindi parto dal presupposto che il diffusore che è già in nostro possesso sia stato scelto con un minimo di criterio. E per criterio intendo in base all'ambiente d'ascolto, alle esigenze di posizionamento, al nostro budget, ma soprattutto in base al nostro gusto personale. Se abbiamo scelto un diffusore è stato perché ci è piaciuto, è stato amore. Le diverse amplificazioni che ho collegato nel corso del tempo alle nostre Olimpica 3 hanno tirato fuori sfumature e capacità inaspettate proprio da questi diffusori. Sono sempre loro quelle che ho deciso di comprare con l'amplificazione, con la mia amplificazione, ma mi sono reso conto che possono dare molto di più. Ecco perché il mio consiglio è quello di valutare, nel caso in cui vogliate fare un upgrade, di aumentare la prestazione del vostro amplificatore, il livello della vostra amplificazione collegata ai vostri diffusori. Quei diffusori che avete scelto, di cui vi siete innamorati al momento dell'acquisto. Nel 99% dei casi all'interno del vostro setup non avete ancora tirato fuori il meglio delle loro potenzialità. Ovviamente questo discorso vale solo in caso di upgrade. Se il vostro scopo invece è quello di acquistare un impianto stereo da zero, partite sempre dai diffusori, sempre. E scegliete in seguito l'amplificazione giusta per loro e per le vostre tasche. Veniamo ora proprio ai diffusori quindi. Il loro upgrade, a mio parere, è opportuno o raccomandabile solo nel caso in cui vogliate proprio svoltare. Passare ad esempio da un diffusore da stand a un diffusore da pavimento di categoria superiore. Questo mi raccomando solo se il vostro ambiente lo consente. A parità di tipologia invece passare a un prodotto di categoria decisamente superiore. Oppure, che so, a parità di fascia di mercato saltare proprio da pala in frasca. Passare da un diffusore con Twitter a cupola e woofer da 18 cm a un diffusore caricato a tromba. O viceversa, per carità. Cambiare diffusore con uno analogo, magari con la stessa tecnologia, di un brand diverso lo vedo come un azzardo. A meno che proprio non ci rendiamo conto di aver preso un abbaglio ai tempi in cui abbiamo comprato il diffusore che vogliamo cambiare. Veniamo ora alla sorgente. Il motivo principale, a mio parere, per un upgrade alla sorgente? Aggiungerne una. Siete analogisti convinti e ascoltate solo il disco nero? Beh, regalatevi una sorgente digitale. Che so, un DAC streamer per avere in un unico oggetto la possibilità di ascoltare la musica liquida? Oppure un DAC completo, magari con ingresso USB, in modo da utilizzare il vostro PC come sorgente? Non vi serve un mostro di super calcolatore da 5.000 euro raffreddato a liquido. Basta un mini PC fanless da 100 euro o un vecchio PC che non utilizzate più per le altre operazioni. Il perché anche con queste limitate risorse potrete avere una sorgente digitale di riferimento? Ve lo spiego qui. Avete fino ad ora ascoltato solo musica in streaming? Riscoprite il piacere di un supporto fonografico tradizionale con un giradischi o con un lettore CD. Ormai i CD ve li tirano dietro, soprattutto se siete amanti dei grandi classici del passato della musica. Insomma, sperimentare nel nome del vero ascolto Hi-Fi. A parità di supporto, invece, c'è qualcosa da fare? Ebbè, sì. Agli amanti del vinile consiglio di puntare su testina e prefono. Un prefono di qualità potrebbe darvi soddisfazioni inaspettate. Per gli amanti del digitale, invece, direi di regalarsi un abbonamento a un servizio di streaming iRES, se ancora non l'avete. A vostra scelta, Kobuz, Amazon Music HD, Tidal. Se ascoltate in streaming col telefono come sorgente tramite Bluetooth, magari un streamer da tavolo con un buon DAC integrato potrebbe facilitarvi la vita e aumentare la qualità del vostro ascolto. La qualità, quando si parla di musica digitale, di sorgenti digitali, è facile da ottenere. Diverso è il discorso legato alla fruibilità di questa qualità. Bene, bene, bene. Direi che a questo punto abbiamo trattato tutti gli aspetti, i possibili upgrade che potrebbero avere un impatto importante sulla vostra esperienza d'ascolto due canali. Da qui in poi, a mio modo di vedere, si entra nel campo delle finezze. Qualcuno di voi potrebbe obiettare, ad esempio, e anche giustamente, che non abbia citato il DAC. Un upgrade relativo a questo componente. Il DAC è un componente fondamentale della catena Wi-Fi quando si tratta di ascolto di musica digitale. Ma abbiamo una fortuna su questo aspetto. L'offerta del mercato per questo tipo di componente è mediamente alta e di qualità. Mi sento di poter dire che, oggigiorno, un DAC non sia quasi mai, in un setup, il collo di bottiglia relativo alle prestazioni di questo setup. È chiaro che io stia parlando in questo momento di oggetti importanti dal punto di vista progettuale, non di giocattoli. Su questo è meglio intendersi bene. Ma del mio pensiero sui DAC ho già parlato diffusamente in un video per cui vi lascio un link qui sopra. Andatola a vedere, se non l'avete ancora fatto, perché lì troverete tutto l'audiofilando pensiero sui DAC. Discorso cavi. Spinosissimo discorso cavi. Cavi di segnale con buona fattura e con buone schermature e cavi di potenza con una buona sezione sono, secondo me, tutto ciò di cui avete bisogno. Per i cavi di alimentazione, beh, troverete nella confezione di ogni prodotto Wi-Fi il cavo che è stato dimensionato adeguatamente per farlo esprimere al meglio. Se avete budget a disposizione e volete farvi un regalo per migliorare in modo significativo la vostra esperienza d'ascolto, cose da fare ne avete e ne abbiamo discusso prima. Questo ovviamente è il mio pensiero e non vuole assolutamente essere una regola. Poi figuriamoci se io mi arrogo il diritto di dire a voi come spendere i vostri soldi, non mi permetterei mai. E il vostro di pensiero invece? Quale sarà il prossimo upgrade del vostro impianto? Scrivetemelo qui sotto nei commenti. Magari ditemi anche il perché state pensando a quest'upgrade e perché volete cambiare quel componente. La condivisione, se costruttiva, potrebbe aiutare tutti i membri della community. Io spero che questo video vi sia stato utile. Mi raccomando però, non prendetevela con me se dopo averlo visto vi è venuta voglia di fare un upgrade. Per oggi ho finito, non mi resta che augurarvi buoni ascolti e... Ciao! Ciao!